L'articolo sulla provincia di Varese riporta dell'ennesima tempesta magnifica che è in corso oggi, 13 ottobre. Ecco, ma non mi sono soffermato su questo articolo perché è un'eccezione o novità, considerato che ormai è l'ennesima tempesta solare nel giro poco più di 40 giorni, ma perché per la prima volta sono licenziati i russi che danno questa notizia riferiscono anche del pericolo che può causare queste radiazioni magnetiche anche sul cervello delle persone, sulla salute delle persone stesse, non solo sui cellulari e gps, come riferivano sempre gli articoli precedenti, in effetti io continuavo a ripetere, ma se influiscono e disturbano questi mezzi come cellulari e frequenze e gps, influiscono anche sulla testa, ma perché non lo dicono, considerato che la testa si nutre dell'energia del sole. E questa volta, per la prima volta, ho letto finalmente sul giornale, sull'articolo del giornale, che gli scienziati russi dicono le stesse cose che continuo a ripetere da tempo sui post e i video. In effetti qua dicono, gli scienziati avvertono però che le persone più sensibili a questi cambiamenti del tempo possono soffrire di mal di testa, nervosismo, stanchezza o ansia e questo ovviamente è ciò che potrebbe generare molti omicidi, suicidi o stragi familiari, la cosiddetto colpo di follia. E ovviamente, bisogna considerare anche questa situazione, per molti cani che improvvisamente aggrediscono loro padroni e spesso, purtroppo, li uccidono, come è venuto poco tempo fa a Brescia, dove una bambina di due anni è stata dannata da due pitbull, i suoi cani, che erano in casa, e l'hanno ucciso. Come dire, se le cose vengono dette, uno può anche stare attento e molte disgrazie possono essere evitate. Ecco l'importanza di sapere o di fornire certe informazioni utili a tutti, per evitare di morire inutilmente. Grazie.